Il campionato è finito e Cedric, Axel, Rosa e Saverio sono stati promossi in primavera. Dopo un intero anno di fatiche e sofferenze, adesso possono godersi il meritato riposo. Mentre Cedric è andato per la prima volta a Roma a trovare il suo ex compagno di stanza Proietti, Saverio e Rosa hanno preferito andare un po' al mare. Saverio e la sua famiglia hanno una casa a Tirregna. Anche se in vacanza, il capitano non rinuncia a due ore di allenamento giornaliero. Io vengo dall'infortuno lungo un anno. Non so più a che livello sono perché comunque o ci sta nella peggiora delle posizioni che si peggiori, quindi si starà a vedere. E quindi dovrò fare tutto per meritarmi il posto a ritrovare e giocarmela con quegli altri. Intanto a Lignano, Rosa si tiene in forma grazie alla sorellina Matilde. Dopo la delusione, per fortuna mi sono rincurato tornando a casa e stando con la mia famiglia mi sono ripreso. Soprattutto dopo Matilde ho staccato la spina, anche perché è stato troppo brutto uscire così ai rigori, quello sbagliato, quindi mi sento anche in colpa a certe volte. Non è bello, non è bello. È la prima volta che Cedric viene a Roma e con una guida come Proietti non gli dispiace fare un po' il turista. E si, porca, questo po' nei capelli. Sono felice, guarda. E' carissimo. No, è una parrucca, questa è la motiva. E poi scendiamo, ma fontano dei trevi, lo sai che là si buttano i soldi, cioè di bisbicci. Ma dopo a chi vanno i soldi, no? No, arrivano là. Ma sempre? Sì. Allora, fanno una foto. Vai, 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 scatta, scatta. Sì, ma ci ha messo pure tutto in mezzo, ma questo... Oh, ma qua non ha compagno il tuo coso. Il gatto è dove? Sì, un lontano. Oh, la tua è tutta inagna, l'uomo. La casa del Papa, la sua camera, vedi? Ciao. La vede sempre il TV, lo vedi? Eh, la vista. Io sono fissato, mi sa che è lì. Perché? Ma che c***o, perché c'è tipo il balcone, cioè... Ma lui, è che... Dai, qui c'è il balcone, c'è. Eh, da lì, c'è. In TV! Vai da lì, c'è qua, vedi? Oh, io ci metto le palle con tu, vuoi, che lui sta facendo il balcone. Fissate di me, che lui sta qua fuori. Sentiamo, cosa faccio là, là che fa la messa. Ale, ce l'ho mandato al tuo paese, cioè. Bello. Pari miei gol. Ma qua appiglia la linea vuota, funzioni di chiamata qua? Certo. Ma non ho pure la stessa lingua, pensa. Qua c'è, mamma, ma dove sei? Non sono più a mamma. Ora sì, ora no, ora sì. Andiamo, dove qua? Qua c'è, mamma. Sì, ma che c'è, mamma. Oh, frate, ma che c***o, c'è chi mi sa che va a me, vai? No, di buttare i due euro. Sì. Due volte. Due volte. Ah, ah. Ok, ben recitativo, sono tanti, eh. Vai. One, two, three. Dai, qui. No, 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 no. Saverio ha invitato per il weekend la sua ragazza Sara. È la prima vacanza insieme della coppia. Hai vista la scuola a Firenze? Sì. È bellino. È più bella di quello di tutto. Almeno è comunque così. Da settembre? A settembre ne vado via, meno male. Ma quando torni poi? Non torno più. Il sabato torni? No, non ti voglio vedere. No, per favore, è freddo. Guarda che vento c'è. No, io voglio andare. Non io sto qui. No, non si va. No. Esci, vai via. Vai. Batti. No, 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 io sto qui. Sì. 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 No, 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 non lo voglio fare. Dai, ma domani parti, andiamo. È uguale. Andiamo. Tutti gli schizzi, ecco. Arriviamo io qui, l'acqua. Ah, ci vedo niente. È bella. È bella. È bella. Andiamo. Ciao. Why is it so hard to believe? Burn all the pictures that you have And tear our memories in love Cause I know, and you know I'm too good for you So break away, don't look back What we had never truly mattered And now I find a time for someone else Break away A Lignano, la giornata di Rosa Prosegue in spiaggia con l'amico Marco Aspetta, aspetta, aspetta La vedi? Ma vedi anche se no Cioè, non ci sono discussioni L'Emil numero uno Numero uno in assoluto, basta Esperienza e qualità Ecco, è un mix perfetto Fammi capire un attimo Che esperienze hai con l'Emil? Tu sono un quadro natural? Non ci creda che vai con le 35? No Voglio le prove Guarda quella Una bestia Ma l'hai vista? Ma questa qua con il vestito Mi fa impazzire È una stanga Piacere Alberto Vieni a dormire Ci stai? Mentre Rosa ha trovato un ottimo modo per concludere la serata A Tirrenia, Saverio esce con Sara Brava, brava Complimenti Hai visto che vado in centro? Che ho vinto? Che no Guarda che ho vinto Che ho vinto? Mi dispiace ma faccio sempre Non è vero Nel frattempo a Roma Cedric e Proietti Finiscono la giornata Nel più classico dei modi In discoteca Tu stai a ballare? O devo far vedere qualche mossa? Ma poi ho mantenuto la proposta Che a fine campionale Non sai Non tornare a casa Certo Ma che c'è Che non ho capito? Quanti? Non, non, non Ma che c'è Ma hai tante fai Ma hai tante fai Non è vero Vabbè che c'è La c'è Che c'è La c'è Ma hai capito? Hai tante fai Ha potuto cuore Roma? Tu stai a Firenze? Si, a Firenze Non, non, non È una storia seria Quanto è che stai Hispanic? Non, non È importante Dove conto? Non, è qui Una settimana Non, non È stata una storia seria Oh, è appena cominciato, farla diventare seria, è semiseria, che ti devo dire? Poi mi porti in questi posti, c'è pieno di figa, che c***o devo dire? Seria o no, non lo so, frate. Non è più seria, dai, capito? Mamma mia, siamo già seremo in un video di Tupac, capito? U, U, D, quest'amera, vai, un u il you wanna? U, D, quest'amera, canto? Develop sveglile fond sugarated. Grazie a tutti.